Vi invito a restare con noi, ma prima la sigla. Eccoci qua, buongiorno, buona giornata a tutti, ben ritrovati, nuova puntata. Buongiorno a quelli che si sono appena svegliati, buongiorno a quelli che sono svegli già da un po'. Ci saranno le consuete rubriche quotidiane che ci porteranno in giro. Bentrovati amici di Padre Pio TV, apriamo come di consueto la nostra pagina dedicata all'informazione. Just Today, vi aspettiamo ogni giorno dalle 8 in diretta su Padre Pio TV.